ciao ragazzi siamo fadrenson e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi presenteremo un bellissimo video girato ben due anni fa quando ancora non si pensava di fare il canale e vi presenteremo le coste del gargano questa meravigliosa terra ragazzi ora vi lasciamo alle piccole clip e mi raccomando mettete un mi piace mettete un mi piace e iscrivetevi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 Here we go 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 Here we go